La tragica ma vera storia del Reggae Inghilterra. La piccola città di Neat è uno dei migliori punti di partenza per esplorare le valli del Galles Meridionale. È una città abbastanza carina, ma ciò che la rende affascinante è il suo contesto storico. La città è dominata dalle rovine del suo castello. Non è rimasto molto di loro adesso, ma non ci vuole molta immaginazione per visualizzare la fortezza fredda e desolata che fu uno degli ultimi rifugi di Edoardo II. Chi era Edoardo II? La storia è stata scritta dai vincitori e Edoardo II non è andato troppo bene nel modo in cui è stata raccontata quella storia. Nella nostra mente, Edoardo II è sempre il Reggae, quindi proviamo una sorta di affetto per lui proprio su questa base. Ma la storia di Edoardo II è un po' più complicata. Edouard nacque nel 1284 e divenne re d'Inghilterra nel 1307, il sesto della linea dei plantageneti normanno-francesi. Regnò fino a quando fu deposto e ucciso nel 1327 da sua moglie Isabella. Aveva 43 anni al momento della sua morte. Edoardo II era gay. Mentre la sua passione per gli uomini sembra essere confermata da numerose fonti contemporanee, Edoardo ha avuto almeno cinque figli. Sembra che ci siano stati due amanti maschi chiave nella sua vita. Primo, Piers Gaveston, un cavaliere dell'Aguascogna. Più tardi, c'era Hugh Spencer, un lord inglese. Dove sono andate storte le cose per Edoardo II? Rispetto ai forti regni di suo padre Edoardo I e di suo figlio Edoardo III, il regno di Edoardo II è generalmente considerato un periodo disastroso nella storia dell'Inghilterra, più notevole per la sconfitta del suo esercito a Bannockburn, che pose fine al controllo inglese su Scozia. I legami di Edward con il Galles sono iniziati con la sua nascita al castello di Caernarfon, è stato il primo principe inglese a detenere il titolo di principe di Galles. A quel tempo, i matrimoni erano un'attività importante e strategica. Nel 1308, nel tentativo di rafforzare le alleanze con la Francia, Edoardo sposò Isabella, la figlia del re Filippo IV. Mentre Edward si concentrava sull'assicurazione dell'alleanza con la Francia, nominò reggente il suo amante Gaveston, una posizione chiave di potere all'interno della corte inglese. L'elevazione di Gaveston causò risentimento tra le fila dei potenti baroni inglesi, che manovrarono con successo per l'esilio di Gaveston nel 1311. Nel 1312, Gaveston fu catturato dal conte di Warwick e ucciso. Edward è stato devastato dalla morte del suo amante. Hugh De Spencer era il nipote di Edward per matrimonio. Dopo la morte di Gaveston, Edward ha favorito De Spencer con titoli e privilegi, ancora una volta, facendo arrabbiare i potenti baroni e conti. All'inizio del 1320, la corte d'Inghilterra era ancora una volta profondamente coinvolta in intrighi politici e alleanze mutevoli mentre varie fazioni cercavano di costruire il loro potere e controllo. In questo periodo, si sviluppò una disputa tra Francia e Inghilterra sul territorio della Guasconia. Edward ha inviato sua moglie Isabella in Francia per negoziare i termini di pace. Come parte dei negoziati di pace, Edoardo inviò anche suo figlio maggiore a rendere omaggio al re francese, Carlo, fratello di Isabella. Questo si è rivelato un errore tattico. Isabella, con suo figlio ora accanto a lei, si rifiutò di tornare in Inghilterra. La mossa successiva di Isabella fu di unire le forze con Roger Mortimer. Mortimer era il primo conte di marzo. Era ricco e potente. Mortimer era una delle principali forze contrarie al potere e all'influenza che Edward aveva conferito a Hugh de Spencer. Mortimer guidò una ribellione contro Edoardo nel 1321. Dopo essere stato sconfitto dalle forze di Edoardo nella battaglia di Borobridge, Mortimer fu imprigionato ma in seguito fuggì e fuggì in Francia. Nel settembre 1326, le forze combinate di Isabella e Mortimer invasero l'Inghilterra. Il loro scopo era rimuovere Edward dal trono. L'invasione di Isabella e Mortimer raccolse rapidamente slancio e sostegno. Edward e De Spencer furono lasciati isolati. Abbandonarono Londra nell'ottobre del 1326, diretti nel Galles meridionale, la roccaforte di De Spencer. Uno dei castelli in cui si ritiene che Edward e De Spencer si siano rifugiati era Neat. Il castello di Neat fu originariamente fondato tra il 1114 e il 1130. Fu costruito da Robert, il conte normanno di Gloucester. Oggi, il castello di Neat si erge come rovine nel centro della città. Secondo quanto riferito, fu distrutto durante l'inseguimento di Edoardo da parte di Isabella, sebbene da allora sia stato probabilmente ricostruito e distrutto numerose volte. Non essendo riuscito a creare un esercito o qualsiasi tipo di difesa, il 16 novembre 1326, Edward e De Spencer furono catturati, molto probabilmente mentre stavano viaggiando da Neat a Caerfilly. De Spencer fu brutalmente eseguito il 24 novembre 1326. Le esecuzioni in quel momento erano spesso affari pubblici, tuttavia la scomparsa di De Spencer sembra essere stata elevata a uno spettacolo pubblico. Fu trascinato da cavallo, versi biblici furono scarabocchiati sulla sua pelle, fu condannato all'impiccagione come ladro, a essere castrato, ad essere tirato e squartato come traditore, e parti del suo corpo a essere dispersi in tutta l'Inghilterra. Edward è stato imprigionato nel castello di Kenilworth. Nel gennaio del 1327, fu costretto ad abdicare a favore di suo figlio, Edoardo III. Edoardo III aveva 14 anni all'epoca ed era controllato da Isabella e dal suo alleato Mortimer. Come morì Edoardo II? Mentre rimase in vita, Edoardo II rappresentò un potenziale rischio per il governo di Isabella. L11 ottobre 1327, Edward fu assassinato nel castello di Berkeley vicino a Gloucester e sepolto nella cattedrale di Gloucester. Mentre i cronisti contemporanei suggeriscono che Edward sia stato soffocato o strangolato, la versione popolare degli eventi è che è stato ucciso per essere stato impalato da un attizzatoio rovente spinto su Perlano. Sebbene questa forma di tortura sia un modo grafico e orribile per porre fine alla vita di un re, è probabile che si tratti di propaganda anti-Edward che gioca sulla sua sessualità, con l'intenzione di screditare la sua reputazione e la sua memoria. Edoardo II, un'opera teatrale di Christopher Marlowe. L'opera di Christopher Marlowe fu pubblicata nel 1593, subito dopo la sua morte. Il titolo completo dell'opera è The Troublesome Rain and Lamentable Death of Edward II, King of England, With the Tragical Fall of Prude Mortimer. Marlowe è ampiamente accettato come gay. Non era la prima volta che si occupava delle relazioni gay nel suo lavoro, ma Edoardo II era il personaggio gay più esplicitamente e simpateticamente che Marlowe avesse affrontato. È un'opera teatrale che continua ad essere eseguita oggi. Edward II, un film di Derek Jarman. Rilasciato nel 1991, l'iconico regista queer Derek Jarman ha portato il suo estrovisivo e la sua narrazione destrutturata all'ascesa e alla caduta di Edoardo II, usando il dramma di Marlowe come punto di partenza per questo adattamento. Acclamato dalla critica come uno dei migliori di Jarman, il film è interpretato da Stephen Waddington nei panni di Edoardo II, Andrew Tiernan nei panni di Pierce Gaveston e Tilda Swinton nei panni di Isabella.